a destra, io sono Giulio Peruzzi e presiedo questo incontro di oggi e do subito la parola a Daniela Mapelli che è la rettrice dell'Università di Padova che porta il suo saluto, credo che se vieni qui è meglio perché è così. Grazie. Buongiorno, un caro davvero benvenuto a tutte e tutti, mi fa davvero piacere vedere che seduti tra di noi ci sono anche i nostri studenti e moltissime studentesse. Oggi è una giornata particolarmente importante e ci pensavo salendo in macchina, se crediamo un po' alle coincidenze, al simbolismo, nelle anni degli 800 celebriamo l'ottantesimo dell'osservatorio di Asiago e tra l'altro prima guardavo i fogli e se questo 8 lo rovesciamo abbiamo il simbolo dell'infinito, l'infinito che per un osservatorio di astronomia è veramente incredibile. Ma penso che, e ancora di più ripeto, il fatto che ci siano giovani seduti qui oggi con noi, che sono nostri studenti e nostre studentesse, oggi sia davvero importante perché oggi la nostra presenza qui e la presenza della nostra Università è doverosa perché abbiamo un debito da onorare. Ho già avuto modo di parlarne in occasione della giornata della memoria e lo farò ogni volta che si ripresenterà l'occasione. Se mai avesse senso mettere in fila i momenti bui della nostra patria, la promulgazione delle leggi razziali rappresenta un punto di non ritorno, rappresenta una macchia indelebile e una vergogna che dobbiamo continuare a provare. E perché ne sto parlando? Perché oggi qui noi celebriamo gli 80 anni dell'osservatorio astronomico, ma l'osservatorio astronomico fu ideato da un architetto, Daniele Calabi, che tra l'altro è anche un nostro allumno, perché Daniele Calabi si laurea prima in ingegneria a Padova nel 1929 e poi penso si trasferì a Milano per un ulteriore riconoscimento, un ulteriore laurea in architettura. E vi dicevo, lo dobbiamo perché? Perché Andrea Calabi non venne mai ricordato e non fu presente il giorno dell'inaugurazione, proprio a seguito delle le leggi razziali. Quindi oggi io la sento, e dobbiamo sentirla tutti, la responsabilità della testimonianza. Perché più passano gli anni e più si corre il rischio che venendo via via sempre meno le testimonianze dirette, e oggi noi penso che avremo una splendida testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre. Quegli anni, ormai lontani, vengono in qualche modo dimenticati o sottovalutati dalle future generazioni. Abbiamo quindi il dovere, tutti, di tenere alta l'attenzione di quei ragazzi e quelle ragazze che magari non hanno avuto testimonianze dirette in famiglia. Come invece generazioni come la mia, figlia della rinascita nel secondo dopoguerra, ha avuto. È un salto generazionale e questo salto deve essere per tutte e tutti uno sprone ancora maggiore a tenere vivo il ricordo di quanto è successo. Soprattutto ora, in questo momento, in questo momento storico, con i venti gelidi di estremismi che soffiano sempre più forti in Europa. Oggi abbiamo un debito, vi dicevo, da onorare e mi vorrei quindi rivolgere alla figlia di Daniele Calabi, che è una collega dello UUav. Figlia, vi dicevo, dell'architetto che ha progettato negli anni 30 lo splendido osservatorio che poi andremo a vedere. All'architetto Calabi abbiamo tolto meriti, abbiamo tolto la voce, non è stato nemmeno nominato nella cerimonia inaugurale del 1942, esattamente 80 anni fa, era il 27 maggio del 1942, perché i venti cupi di una guerra terribile già soffiavano nel nostro paese. Oggi, 80 anni dopo, finalmente, siamo qua a rendergli il giusto onore, ricordandolo oggi e nel futuro, anche grazie ad una lapide che più tardi si andrà a scoprire, perché vogliamo che rimanga un segno indelebile per chiunque passerà dal nostro osservatorio. Quindi, a ricordo dell'architetto Daniele Calabi, delle sue opere che hanno contribuito ad arricchire tra l'altro anche molte città, tra cui Padova, proprio perché è importante e doveroso non dimenticare gli anni più bui della nostra storia. Grazie. Porta ora il suo saluto Roberto Rigonisterne, che è il sindaco di Asiago. Ricordo solo questo, ma forse ce lo ricorderà lui. Asiago, quando fu scelta la collocazione dell'osservatorio, dove ora c'è appunto l'osservatorio astrofisico, è il comune che poi ha offerto tutti i supporti, le infrastrutture, eccetera, quindi ha investito molto in queste cose negli anni 30. Sì, buongiorno a tutti. Io veramente sono onorato di essere qui oggi a questo incontro che è un incontro anche celebrativo degli 800 anni dell'Università di Padova, a cui la nostra città è intimamente legata da sempre, perché generazioni e generazioni di nostri ragazzi si sono laureati a Padova studiando nel vostro Ateneo, che è tra i massimi Atenei della nostra nazione. Quindi per me oggi è veramente un momento emozionante se considero anche l'esperienza mia amministrativa, non da studente, perché purtroppo mi sono laureato l'Università di Trento, ma sono, come dire, lieto di essere qui a celebrare con voi questa data che è una ricorrenza agli 800 anni che quest'anno appunto l'Università di Padova celebra, anche perché in questi anni di mandato amministrativo abbiamo collaborato molto con l'osservatorio astrofisico e con l'Università di Padova in generale, perché abbiamo fatto tantissime attività, tantissimi progetti legati all'ambiente, legati all'astronomia, abbiamo avuto un'ottima collaborazione con gli astronomi che gestiscono l'osservatorio astrofisico ed oggi è veramente una data importante perché dopo 80 anni, esattamente il 27 maggio di quest'anno, noi ricordiamo la figura che non venne nemmeno citata, come giustamente ha ricordato la rettrice, nel giorno in cui avvenne l'inaugurazione del nostro osservatorio. Inutile che ricordi io, Daniele Calabi, per le sue attitudini anche di architetto che hanno permesso alla nostra città, per l'altro quindi in un luogo di pregio ambientale, di godere di un'architettura che si integra perfettamente ancora oggi, è un'architettura veramente di grande attualità per testimoniare anche la lungimiranza, cioè la visione di questo uomo che perse la dignità a causa delle leggi razziali. Io che sono sindaco di una città che è medaglia d'argento alla resistenza e nella quale il fascismo è stato vissuto con grande anche disapprovazione, tant'è vero che noi proprio nel centro storico abbiamo una lapide che ricorda un segno esemplare posto in essere dal fascismo proprio per dimostrare agli asiagesi che bisognava rigare dritti e quindi venne ucciso un ragazzo di 17 anni proprio nel centro storico proprio perché era sentito questo sentimento, era manifestato questo sentimento di disapprovazione verso il fascismo e quindi le leggi razziali. Quindi per noi oggi è una data veramente importante perché restituiamo dignità e onorabilità ad una persona che non l'aveva persa per motivi politici ma l'aveva persa appunto a causa di leggi razziali che sono state evocate dalla rettrice e che rappresentano ancora un'onta, una manifestazione proprio di indegnità che noi ci portiamo avanti da molti anni. Quindi grazie ancora per questo momento così importante, così evocativo, così celebrativo e sarò molto lieto di essere presente anche dopo qui nello scoprimento della targa. Buona giornata, buon lavoro e viva l'Università di Padova e grazie appunto per aver scelto Asiao per poter ricordare in questa commemorazione gli 800 anni della vostra sede. Grazie. Do lettura ora brevemente dei saluti che sono arrivati al direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia da parte del Presidente della Regione, il Dottor Zaia. Nel ringraziarla, pregevolissimo Professor Seno, nel ringraziarla per l'invito, come già comunicato dalla mia segreteria, non potrò partecipare all'evento degli 80 anni dell'Osservatore Astrofisico di Asiao a causa di concomitanti impegni istituzionali. È importante ricordare questo anniversario in onore all'architetto Daniele Calabi, che eseguì lavori iniziati negli anni 30 del Novecento, ma che non poteva vedere ultimati a causa delle leggi razziali introdotte nel 1938. L'inaugurazione si tenne senza di lui il 27 maggio 1942. Oggi è doveroso rendere di omaggio, commemorando la sua figura e il suo lavoro architettonico, che consentì di installare una strumentazione all'avanguardia per sclusare il cielo e i suoi misteri con il telescopio Galileo. Quante scoperte sono state fatte nel frattempo, lo spazio ci sembra sempre meno lontano, grazie agli scienziati, ai fisici, agli astronomi dell'Università Patavina, che festeggia gli 800 anni dalla Fondazione. Uno dei più prestigiosi atenei internazionali, con un passato glorioso, che ha raggiunto importanti traguardi nella ricerca e nel mondo scientifico, nella didattica, nella divulgazione del sapere. Nell'augurare la migliore riuscita dell'evento, rivolgo il saluto della Regione Veneto e mio personale a tutti i presenti. È arrivato anche un saluto, di cui non leggo tutti i dettagli, da parte del Presidente Ciambetti, che ringrazia per essere stato invitato e di non poter essere, però prega di poggere ai convenuti le mie scuse per un'assenza dettata esclusivamente dai impegni precedenti. La ringrazio ancora per la gentilezza che ha avuto nei miei confronti. Il Dottor Ciambetti è il Presidente del Consiglio regionale Veneto. Finiamo questa sezione saluti con il messaggio che ci ha mandato Liliana Segre. Per noi è effettivamente un piacere e un onore che abbia avuto modo, almeno non è potuta venire di persona, ma di mandare una sua lettera di saluti. Un caro saluto a tutte le autorità accademiche e civili, a tutte le partecipanti e tutti i partecipanti alla cerimonia presso l'Osservatorio Astrofisico di Asiago. Cerimonia di grande rilievo, quella alla quale voi tutti prendete parte, perché celebra l'ottantesimo anniversario dell'inaugurazione di un Osservatorio tanto importante, ma anche per il collelato di questo appuntamento. Mi riferisco ovviamente al primo grande riconoscimento pubblico, ufficiale e integralmente riparativo dell'opera di progettazione del complesso dell'Osservatorio, risalente all'architetto Daniele Calabi. Di origine ebraica Calabi cominciò a lavorare al progetto negli anni 30, ma nel 38 dovette interrompere ogni forma di collaborazione a seguito delle leggi razziali con cui il regime fascista decise di mettere all'indice, segregare, depredare ed in seguito deportare migliaia di cittadini italiani della minoranza ebraica. Calabi fu ovviamente ignorato al momento dell'inaugurazione del 1942, ma seppur fortemente riparato, fortunatamente riparato all'estero e quindi sfuggito alla Shoah, anche nel dopoguerra rientrati in Italia non ebbe adeguata riparazione per rimane torto subito come professionista, ma ovviamente innanzitutto come uomo. Oggi, a 80 anni da quella inaugurazione fascista, è giunto il momento di fare integralmente giustizia. Un atto dovuto, dovuto dalle istituzioni ad un cittadino, ma anche dall'intera comunità civile, scientifica e accademica, a quello stesso uomo e a tutte quante le vittime del razzismo e della persecuzione. Purtroppo non potrò essere presente di persona, ma auguro il miglior successo alla cerimonia di oggi presso l'Osservatorio di Asiago e rinnovo il più calaroso saluto alle autorità presenti e ai partecipanti all'evento. Un pensiero speciale alla professoressa Donatella Calabi, figlia di Daniele Calabi. Liliana Segre. Allora, a questo punto invece diamo inizio all'incontro, diciamo, dopo i saluti delle autorità e come avete visto potete venire su Flavio, Roberto, Donatella, Stefano, venite e Davide Romanin che, ah ecco. Penso che tutti che siete qui è inutile che io faccia tante introduzioni, si può dare subito inizio agli interventi. vorrei far notare appunto che una cosa che penso che emergerà, che sarà sottolineata e cioè che i luoghi in cui noi viviamo, la nostra vita di tutti i giorni, ma in cui viviamo o realizziamo il nostro lavoro, che in questo caso è il lavoro degli scienziati, degli astronomi, sono luoghi la cui geometria, la cui struttura, la cui ideazione sono fondamentali, danno un contributo anche loro allo sviluppo della scienza che sicuramente qui all'Osservatorio Astronomico è stata di grande impatto. Allora, do la parola subito a Flavio Seno che è il direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia e dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago. Grazie. Innanzitutto, mentre caricano le slide, voglio ringraziare la magnifica rettrice, il sindaco di Asiago, la famiglia Calabi e tutte le autorità, tutte le studentesse, tutti gli studenti, tutti gli ex tecnici, docenti che hanno lavorato in questo osservatorio. Ringrazio per la loro presenza e per il supporto a questa iniziativa. Allora, abbiamo già detto che questo è un anno formidabile per la nostra Università. Sono 800 anni dalla fondazione e sono 80 anni dall'inaugurazione dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago. Allora, gli 800 anni sono un qualcosa che fino a qualche settimana fa vedevo un po' come un peso, come un obbligo che ci stava, che dovevamo fare, ma che ci impegnava moltissimo, ma dopo la cerimonia di giovedì scorso, veramente le cose sono cambiate. Cioè, io sono uno dei pochi fortunati, e di questo ringrazio la magnifica rettrice, che ha potuto partecipare a quella splendida cerimonia, in quella splendida aula che è la nostra aula magna. E lì, appunto, abbiamo sentito tutta la storia che abbiamo sulle spalle, che speriamo di essere degni di poter proseguire. È stato veramente qualcosa di molto emozionante. E, appunto, anche gli 80 anni dell'Osservatorio di Asiago sono qualcosa di molto importante. Questo è stato un laboratorio, un osservatorio all'avanguardia. Qui si è fatta grandissima ricerca in questi 80 anni, anche se, ovviamente, col tempo, i grandi osservatori si sono spostati in altri emisferi. Non pensiamo di far torto alla storia, alla scienza che è stata fatta qui, in questi anni, alle persone che hanno lavorato qui, in questi anni, cogliendo questa occasione per celebrare le persone che attorno agli scienziati hanno lavorato, che hanno permesso agli scienziati di fare le scoperte. Noi ci ricordiamo sempre di pochi grandi nomi, però dietro a questo c'è il lavoro di moltissime persone che svolgono incarichi più o meno rilevanti, ma tutti importanti affinché si raggiunga l'obiettivo. E, appunto, in particolare, dopo che il 75esimo anniversario era stato celebrato, ricordando solo l'attività scientifica svolta qui, abbiamo pensato oggi di cogliere questa occasione per ricordare Daniele Calabi. Ecco, il mio intervento volge a spiegare anche e soprattutto alle persone di Asiago cosa c'è dietro all'osservatorio a Padova. In questi anni ci sono stati vari nomi, vari cambiamenti, però, appunto, il nome osservatorio astrofisico già spiega l'intima unione che c'è tra astronomia e fisica. Allora, per sottolineare questa unione, io vorrei di nuovo partire dalle storie di uomini e vorrei citare un altro personaggio fondamentale che è, per noi, che è uno scienziato, che è Bruno Benedetto Rossi. Bruno Benedetto Rossi è un veneziano di famiglia ebraica, nato nel 1905 che ebbe una carriera fulminante. Si laureò a Bologna nel 1925. Nel 1927, a 22-23 anni, era già assistente all'Università di Firenze e nel 1932 fu chiamato come professore all'Università di Padova. Era già una stella della ricerca mondiale, lavorava sui raggi cosmici. Ora, gli scienziati guardano il cielo, lo guardano con tanti strumenti e quello che vediamo con gli occhi è solo una piccola parte di quello che possiamo sentire e misurare. In quegli anni si scoprì che dal cielo, dallo spazio, arrivavano delle particelle che all'inizio non era ben chiaro cosa fossero e Bruno Rossi fu uno dei precursori di questa analisi. Lavorava in stretto contatto con i grandi fisici dell'epoca, faccio i nomi di Millikan e Compton, che per chi ha studiato fisica sa che sono dei giganti nel campo e iniziò a lavorare a Padova in questo settore. Ottenne risultati abbastanza importanti una cosa per la quale il ritorno dopo chi fece fu anche la costruzione del nuovo edificio, ma nel 1938 anche lui fu cacciato. Fu cacciato, riparò prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti dove divenne professore all'MIT, dove fu uno dei più grandi fisici del secolo scorso, non ricevete il premio Nobel, ma non tutti i grandi fisici ricevono il premio Nobel, ci sono pochissimi premi Nobel. Ritornò a Padova perché il corso di laurea in astronomia gli conferì la laurea ad honorem il 7 dicembre del 1992. Ritornò a Padova ma non volle mettere piede nell'istituto in quello che lui fondò, che era l'istituto di fisica. Ecco, perché mi piace citare Bruno Rossi? Mi piace citare Bruno Rossi perché in un certo senso è anche lui legato alla storia che racconteranno gli oratori successivi oggi. Anche lui si rese conto che se si voleva fare della ricerca bisognava programmare, bisognava costruire edifici che fossero all'altezza dell'attività che si doveva svolgere. Ecco che quindi lui in stretta collaborazione, questa per chi conosce Padova è via Marzolo, lì in fondo c'è via Belzoni, lui praticamente progettò assieme agli architetti l'edificio nel quale ancora noi lavoriamo e per renderlo funzionale al massimo, rendetevi conto che fu il primo istituto di fisica in Italia che prevedeva postazioni di laboratorio per gli studenti. Quindi un qualcosa che era pari delle grandi università americane e inglesi. Eccolo qui sul tetto del dipartimento che è in costruzione. Ecco, l'edificio fu, l'istituto fu inaugurato nel 37, la fisica prima era insegnata al palazzo del Bo e nel 38 però dovete lasciare Padova e l'Italia e il suo paese. Ecco, dicevo istituto astrofisico, io sono direttore del dipartimento di fisica astronomia. Fisica astronomia sono due scienze che intimamente legate, le divisioni a volte vengono per ragioni politiche, di politica accademica intendo. Ma in realtà siamo molto vicini e tutte le scienze sono molto vicine. Una delle parole d'ordine di questo rettorato che io sposo completamente è la multidisciplinarietà. Non si può pensare di affrontare le sfide del futuro dividendoci in settori scientifici disciplinari in piccole nicchie. Bisogna collaborare. E naturalmente fisici e astronomi si richiamano tutti al padre della nostra scienza che è Galileo Galilei, che a Padova appunto lavorò dal 1592 al 1610 e al quale a Galileo Galilei è appunto dedicato il dipartimento di fisica e astronomia. Ecco, l'organizzazione attuale della didattica e della ricerca come la vediamo adesso non esisteva ai tempi di Galileo. È un qualcosa che nasce nell'Ottocento, forse un po' prima anche da Napoleone, quando si vuole cominciare a organizzare in maniera efficace anche l'insegnamento, quando nascono le grandi scuole, scuole francesi per esempio. E in Italia soprattutto dopo l'unità d'Italia. Ecco, i primi istituti monocattedra nascono dopo il 1873 con la costituzione della facoltà di scienze matematiche e fisiche naturali. L'istituto di fisica nasce nel 1874, prima era il gabinetto, quello di astronomia nel 1866. Poi, 86 scusami, ho uno storico come Cermen, è una cosa pessima, non posso sbagliare la parola, va bene. D'accordo, nel 1933 compare il termine istituto scientifico che non è più monocattedra, prima c'era il grande capo, adesso nascono, cominciano a nascere i dipartimenti e gli istituti e nel 1983 nascerà il dipartimento di fisica, il cui primo direttore sarà Eugenio Calimani. L'istituto di astronomia nasce nel 1964 con annesso Osservatorio Astrofisico di Asiago e a sede alla Specola e questo nasce dopo un accordo tra Università e Osservatorio Astronomico di Padova. Il direttore sarà Cesare Chiosi che del nuovo dipartimento, il nuovo dipartimento manterrà quella sede che viene trasferita nella sede attuale nel 2000. Allora, queste cose per farvi capire che c'è un intreccio strettissimo tra la fisica e l'astronomia a Padova, così stretto che io e uno dei relatori che sede lì in fondo, stiamo da tre anni cercando di capire chi è il proprietario di una sedia e chi lo è il tavolo, perché è difficilissimo scrivere una convenzione perché si è vissuto sempre assieme, insomma, quindi le divisioni che ci sono sono a volte veramente artificiali. Ok, ecco l'Osservatorio Astrofisico di Asiago, il cui primo astronomo fu il professor Silva, ma che non posso qui non nominare il professor Rosino che lo gestì per tantissimi anni, ma sulla parte scientifica dell'attività svolta qui parlerà poi Roberto Ragazzoni. Io, allora, ecco qui vi mostro i due edifici principali a Padova, in alto l'edificio di ex istituto di fisica, quello fondato da Bruno Rossi nel 1836 e qui c'è il dipartimento, l'ex dipartimento di astronomia. Adesso siamo un unico dipartimento perché nel 2011, 2011, una legge, volle razionalizzare la struttura universitaria. Allora, non è stata un'unione facile, soprattutto perché eravamo da due parti e siamo ancora in due parti diametralmente opposte nella città. Però molte cose sono nate con questa unione e qui vi voglio mostrare l'impressionante crescita del numero dei docenti del nostro dipartimento. Allora, mentre dico questo, devo naturalmente guardare la mia rettrice che mi ha promesso un dipartimento nuovo per ospitare tutte queste persone in poco tempo. No, questa crescita, vorrei precisare, non è solo una crescita del nostro dipartimento, è una crescita dell'intera Università di Padova. In questi anni, per vari motivi, anche il nuovo modo con cui vengono erogati i finanziamenti, l'Università di Padova è riuscita a superare le difficoltà degli primi dieci anni del secolo, di questo secolo e recentemente è riuscito ad acquisire tantissimi docenti, soprattutto docenti che vengono dall'estero. Quindi un grande numero, un grande numero di docenti, ovviamente il numero non è sufficiente, bisogna anche la qualità. Ecco, e il nostro dipartimento penso che come qualità si possa posizionare bene. Qui vi mostro sei colleghi, sei colleghi che hanno vinto i prestigiosissimi finanziamenti dell'European Research Council. Questi sono progetti di ricerca con finanziamenti molto grandi di milioni di Euro, per ottenerli si è sottoposti a una serie di interviste, di panel che ti intervano a tutte le parti, solamente ogni anno ci sono poche centinaia di persone in tutta Europa che ottengono questi finanziamenti. Nel nostro dipartimento ne abbiamo sei e mi piace anche sottolineare che tre sono di formazione astronomica e tre sono di formazione fisica. Una è anche presente in sala. Altro argomento che sottolineo molto velocemente e non so se avete visto sui giornali recentemente che il Ministero dà dei finanziamenti ulteriori ai dipartimenti che si classificano bene nelle graduatorie che vengono fatte ogni cinque anni e che presentano un progetto ben delineato di sviluppo. Ecco, anche quest'anno il Dipartimento di Fisica è uno dei tanti dipartimenti del nostro Ateneo che è stato ammesso a questa prima selezione e già nella precedente selezione il nostro Dipartimento aveva ottenuto questo finanziamento. Questo finanziamento e il tema del progetto, guarda caso, era la fisica dell'universo, era un qualcosa che univa la fisica e l'astronomia. Ecco, mi piace mostrare questa slide, guardo il sindaco, perché con i finanziamenti di questo progetto stiamo organizzando anche delle scuole qui all'osservatorio e la prima scuola si tenne proprio a gennaio del 2020 quando io con ubi i dottori Gorin Stern, eravamo ancora persone abbastanza innocenti perché non sapevamo che stavamo andando incontro alla terrificante pandemia e qui appunto era freddo, era un pomeriggio di fine gennaio, c'è la foto con tutti i partecipanti, la maggior parte dei quali era strania. Ok, altro punto importante, gli studenti come vedono questo dipartimento? Beh, allora un'altra cosa che devo sottolineare è che nel 1968 l'Istituto di Astronomia di allora ebbe la grande intuizione di creare il corso di laurea in astronomia, che fu per lungo tempo uno dei due corsi di laurea che esistevano in Italia e guardate nel corso del tempo il numero degli iscritti che aumenta addirittura in maniera molto molto forte negli ultimissimi anni, su questo ritornerò tra un secondo e vi mostro anche un'altra cosa, il numero di iscritti alla laurea magistrale, vedete che verso il 2010 avevamo 30-40 iscritti, questo numero sta crescendo, sta raggiungendo le 100 unità, ma la cosa interessante è che quasi il 40% di questi sono stranieri, quindi il corso di laurea in lingua inglese, in astrofisica, in cosmology che teniamo a Padova, è un corso che comincia a tirare molti studenti dall'estero e molti sono qui in aula. Ok, qual è l'interazione tra studenti e l'osservatorio astrofisico? Beh, è un'interazione importante, parte della formazione dell'astronomo è appunto fatta imparando ad operare il telescopio ovviamente. Allora, in passato gli studenti passavano qui veramente molto tempo, poi col passare del tempo, anche col cambiare delle leggi, una volta si facevano delle tesi di laurea molto più lunghe, adesso con il 3 più 2 si è molto più stretti, quindi la cosa è un po' più difficile, comunque tuttora, prima del Covid, c'erano circa 200 studenti all'anno che venivano qui in formazione per alcuni giorni dell'anno. Ecco, la pandemia ha bloccato questo, però ha anche fornito un nuovo strumento, adesso anche col controllo remoto da Padova è possibile imparare a fare qualcosa a Padova e poi venire qui alcuni giorni proprio a finalizzare alcune attività. quindi vediamo anche l'opportunità che questa grande crisi ci ha creato. Ecco, un'altra cosa importante è l'attività di divulgazione, l'attività di divulgazione che viene fatta nelle scuole con attività tipo il cielo come laboratorio che porta o altre, o i percorsi alternanza scuola lavoro che portano ad Asiago un centinaio di studenti all'anno e poi ci sono le visite. Voi sapete che si può prenotare e si possono fare delle visite guidate con osservazione, con osservazione appunto guidata. Ecco, fate conto l'enorme potenzialità, noi abbiamo riaperto dopo la seconda fase del Covid a luglio del 2021 eppure in assenza delle scuole fino ad aprile abbiamo già avuto 5 mila visitatori. Quindi diciamo che in regime normale avere 10-15 mila visitatori qui all'osservatorio è una cosa assolutamente fattibile. Ecco, anche qui però mi piace ricordare, anche qui la pandemia ci ha permesso di inventarci qualcosa di nuovo e appunto penso fosse il 4 aprile del 2020, il momento più duro, qualche giorno prima che il Papa da solo andasse in Piazza San Pietro, abbiamo pensato di fare un'attività di divulgazione via Zoom, via streaming. È stato un qualcosa che è partito così in poco tempo e la cosa impressionante è che quella sera abbiamo avuto 42 mila persone collegate, quindi stavamo competendo quasi con Rai 1 credo, forse anche meglio. Ecco, quindi la divulgazione e l'ultima cosa che voglio ricordare poi e che è già stata citata dal sindaco, poi la forte collaborazione col territorio. Abbiamo tantissime attività e appunto qui ho messo quella svolta recentemente il Festival dell'Astronomia di Asiago, il Dipartimento era co-partecipe, è stato organizzato essenzialmente in loco, ma tutta un'attività che viene fatta assieme e che lega appunto l'osservatorio al territorio. Ecco, questo è un po' il quadro del nostro dipartimento. Noi abbiamo adesso ancora altri eventi per gli 800 anni, avremo altri eventi qui in sede ad Asiago appunto per celebrare gli astronomi che qui hanno lavorato. A Padova avremmo tre premi Nobel, tutti legati al mondo astronomico, che abbiamo invitato. Il primo è già stato, cioè è stato alla fine venuto, non è potuto collegarsi anziano, si è solo collegato a Roger Penrose e poi abbiamo Di Dichelo e Martin Rees che verranno in settembre e probabilmente in ottobre. Quindi massima attenzione all'astronomia. Ecco, quindi io concludo questo mio intervento e cedo adesso la parola al Professor Ragazzoni che ci racconterà cosa è stato fatto qui in questi in questi 80 anni. Allora, giusto per le osmosi tra, Roberto Ragazzoni è uno dei docenti del Dipartimento di Fisi e Astronomia, ma in realtà è anche direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova, che è una delle strutture dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che quindi ovviamente collabora fortemente con la capitale di ricerca dell'Università, ma è un ente nazionale di ricerca. Prego. Grazie, allora buongiorno a tutte e da tutti, è un piacere essere qui con la magnifica elettrice, con il Sindaco, con tantissime colleghe, tantissimi colleghi e soprattutto con le studentesse, gli studenti che saranno gli astronomi che un domani, diciamo, faranno danni come abbiamo fatto noi negli anni passati nell'osservatorio. Grazie a Giulio che ha già introdotto, volevo aggiungere in questa fotografia aerea, in cui si vede anche qui, poi sveliamo verso la fine, anche perché c'è un collegamento collegato al motivo indirettamente, se vogliamo, al motivo che siamo qui per, legato alle questioni delle leggi razziali, su quell'esagono, diciamo, che vedete in questo caso nel giardino del Castello Carrarese e il fatto che l'astronomia, diciamo, a numerosi personaggi, Bruno Rossi è già stato, diciamo, citato da Flavio, che sono stati, come dire, vittime loro malgrado in un certo senso di, delle questioni legate alle leggi razziali e su cui ci sono stati numerosi interventi in passato e voglio citare questo intervento fatto qualche anno fa, a cui anche ho tratto qualche spunto. Cercherò di vedere, diciamo così, di mettere nel contesto il compito di spiegare cosa è stato fatto all'osservatorio di Asiaco col telescopio da un metro e ventidue centimetri, è un compito che non è arduo, è semplicemente impossibile, questo è un vantaggio perché posso permettermi di scegliere qualcosa e ovviamente mi scuso con tutte quelle innumerevoli ricerche scienziate e scienziati che hanno fatto a questo telescopio e che non riuscirò a citare in questo momento e nel frattempo sul lato destro farò scorrere alcune immagini, diciamo che sono certamente belle per, come si dice, l'occhio di uno scienziato e alcune sono belle anche, diciamo, da un punto di vista estetico, tutte raccolte col telescopio di Asiaco a partire dalla sua, dal 42 fino ad oggi. Diciamo, l'osservatorio di Asiaco, il telescopio del metro e venti praticamente abbraccia l'era spaziale, questa è tristemente, diciamo, collegata, se vogliamo, ai primi V2 che sono, diciamo, certamente un'applicazione positiva di questo tipo di attività, ma di fatto, diciamo, abbraccia tutta l'era e in senso sia positivo sia negativo, nel senso che ovviamente è stato soppiantato dalla possibilità di osservare gli oggetti in loco o vicini o fuori dall'atmosfera terrestre, aprendo tutta una nuova serie di finestre. È interessante anche che ci sono dei lanciatori che hanno degli Apollo, sono una stagione, gli Space Shuttle abbracciano per 30 anni, i Soyuz avremmo voluto che continuassero adesso, nel 2019, poco prima della pandemia, abbiamo lanciato un ultimo satellite costruito anche qui all'Università di Padova con un lanciatore Soyuz e purtroppo questa collaborazione con la Russia si è interrotta, quindi forse così è anche un momento che è un momento particolare, importante, qualcun altro l'ha già detto, che stanno ritornando, potrebbero, c'è il rischio che torni dei periodi bui, diciamo, e ce n'è un elemento tangibile sul fatto che non sono più disponibili alcune collaborazioni che in passato recente, dopo la fine della guerra fredda, abbiamo utilizzato grandemente. Naturalmente l'esplorazione spaziale non vuol dire solo questo, vuol dire tantissime osservazioni, specialmente in sito dei pianeti del sistema solare, della cometa, voglio ricordare sia la missione Giotto, sia la missione Rosetta in cui Padova ha giocato un ruolo fortissimo e come ha detto Flavio faccio anche fatica a dire chi dell'osservatorio e chi del dipartimento perché fino a una certa data la cosa era completamente mischiata in modo anche non visibile fisicamente, gli uffici erano mescolati, cosa che magari è formalmente un errore da un certo punto di vista ma è una cosa positiva culturalmente e deve continuare a essere almeno sul piano culturale. Naturalmente il telescopio di Asiago, il metro e venti, è il telescopio più grande d'Europa quando viene costruito, in Germania c'è un telescopio da un metro e zero cinque e perde rapidamente questo primato, ovviamente gli astronomi continuano a costruire telescopi più grandi, costruiscono telescopi per altre lunghezze d'onda, mandano telescopi nello spazio, iniziano a fare osservazioni anche, vediamo, Homestay che è il primo esempio forse di un telescopio per neutrini in questo caso e poi diciamo per esempio l'Igo negli anni molto più recenti dei telescopi per rilevare onde gravitazionali, quindi non solo non guardare quello che si vede nell'occhio e quindi espandere lo spettro elettromagnetico ma uscire dallo spettro elettromagnetico, questo è il contesto in cui si muove, in cui si è mosso, in cui ha vissuto il telescopio di Asiago. Quindi ho provato a mettere una serie di scoperti importanti che sono avvenute nell'astronomia e mi piace ricordare che per esempio nel 67 viene scoperta la prima pulsare e grazie anche al compianto Professor Bernacchi e a molti altri viene in tempi rapidi costruito e per anni ha raccolto dati, io stesso da studente ho aiutato a fare questo, dati con il fotometro rapido di Asiago ogni notte che era possibile veniva osservata una pulsare nella nebulosa del granchio e raccolti dati perché c'era questa cultura anche di raccogliere dati che possono essere utili a imperitura e memoria. Uno dei grandi patrimoni, poi lo vediamo un attimo più in dettaglio, è la messe di dati raccolte in tutti gli anni da questo telescopio e dalle strumentazioni che sono state attaccate. Un'altra cosa che voglio ricordare, tu hai parlato di Bruno Rossi, Flavio Riccardo Giacconi allievo di Bruno Rossi costruisce il primo telescopio a raggi X, gli viene dato un laurea di scala dalla nostra università nell'84 e prende il Nobel nel 2002, quindi ci sono tutti una serie di eventi che in un certo senso collegano indirettamente l'osservatorio di Asiago. Vediamo però che cosa ha fatto l'astronomia del metro e 22, come ho già detto è un'impresa aldo impossibile, parto da un elenco, ho preso l'elenco che Lioni da Rosino che è stato il direttore per lunghissimi anni del telescopio del 122 cm, che ha voluto che lavorasse ininterrottamente io stesso dicendo dalla cultura per cui ogni secondo di notte in cui il telescopio non viene usato è un errore, è un peccato diciamo e quindi la cosa principale è l'archivio di immagini e spettri che viene conservato adesso. Domani esplode una supernova nella nostra galassia, si potrà venire all'osservatorio di Asiago andare a cercare se esiste un'immagine, molto probabilmente esisterà un'immagine, uno spettro della stella che oggi non possiamo dire che esploderà come supernova, per fare un esempio diciamo un po' stupido. Abbiamo non solo archivio di immagine, abbiamo la curva di luce della pulsa della crab, abbiamo 18 mila spettri di tantissime, nove supernova, stelle particolari, stelle simbiotiche, stelle, noi siamo abituati che il nostro sole è singolo ma la maggior parte, non la maggior parte, il 50% delle stelle della nostra galassia in realtà vive diciamo in coppia, per dire è tutta una serie di oggetti a masse aperte, a masse globale, nebulose galassie. Le ho elencate in un ordine che ho voluto prendere pari pari da quello che scrive Leonide Rosino perché qualunque altro ordine sarebbe stato diciamo opinabile e quindi non ho voluto modificare l'ordine che il maestro come dicevamo ha utilizzato. Sulle supernove scelgo qualche cosa a caso, gli spettri di supernova, il catalogo di supernove di Asiago che è stato iniziato dal professor Barbone e poi portato avanti da colleghi carissimi e il cui testimone adesso è nelle mani di una ricercatrice che è qua in sala, diciamo ha uno dei cataloghi più importanti e tuttora più citati e più utilizzabili oggi online con le nuove tecnologie e per esempio questo ha contribuito in un certo senso anche a molte scopole sulle supernove, qui cito Brian Schmidt che ha preso il Nobel nel 2011. Il telescopio da un metro e venti ora diciamo lavoro nel mio campo, io mi occupo di strumentazione, diciamo è anche stato un banco di prova per nuova strumentazione, per sviluppare nuova tecnologia, gli astronomi inventano nuova tecnologia, proviamo ad attaccare al telescopio e vedere se si vede qualcosa di nuovo, questo è il vantaggio di avere un universo sconosciuto che non appena si riesce a costruire qualcosa che guarda più in là in qualche spazio dei parametri sperabilmente si osserva qualcosa. Lo spettrofone nebulare è uno dei primi strumenti diciamo come dire particolari che dagli Stati Uniti viene portato in Italia e ha portato poi più tardi non col telescopio da metro e venti, naturalmente col passare del tempo già negli anni settanta il fatto che era un telescopio da solo un metro e ventidue centimetri di diametro cominciava a far sentire il suo peso e quindi la gente sperimenta nuove tecniche sul telescopio ma poi le usa magari su telescopi di diametri più grandi in giro per il mondo o costruiti dalla stessa Italia. Per cui successivamente il professor Bertola assieme a Galletta scopre un nuovo tipologia di galassie, nuovi tipi di galassie nel mio universo con strumentazione analoga. L'interferometria speccol che oggi diventa una parte integrante del corso, in certi corsi gli studenti costruiscono una camera speccol e la portano al telescopio di Asiago qui per vedere, per picchiare sui denti i problemi che ci sono poi a effettivamente osservare, è stato portato nel 78 poco dopo che era stato inventato grazie a Cesare Barbieri da questo astronomo tedesco Gerhard Weigel e sono state eseguite tantissime osservazioni e noi stessi nel 2000 che abbiamo raggiunto, fatto un certo risultato con la tomografia adattiva, un sistema per misurare tridimensionalmente l'atmosfera per correggerla che abbiamo fatto al telescopio alle Canarie che è un telescopio da 3,5 metri, in realtà prima di farlo l'abbiamo testato al telescopio da 1,20 metri che purtroppo il diametro è quello che è e nell'anno 2000 siamo riusciti a capire una serie di cose per poi riuscire a fare davvero l'esperimento a un telescopio di dimensioni maggiori. Mi appropingo verso la fine, ho rirubato una fotografia che ha mostrato Flavio in cui c'è il telescopio di Asiago su cui stiamo parlando con la sua architettura, si vede l'anello diciamo con l'arco dell'edificio intorno e a fianco dei bambini che diciamo hanno appena fatto una spesta di gioco in cui hanno costruito con degli esagoni di cartone la sagoma dell'apertura del telescopio che si chiama European Extremely Large Telescope, un telescopio da 37 metri che stiamo costruendo in Cile. Questo mi rimanda a un'altra persona che per me era un mito prima ancora di sapere delle sue vicissitudini per le leggi razziali, dopo e prima era un irredentista durante la prima guerra mondiale, questo signore Guido Ordo Arturo che è stato il vero inventore di questa di questa tecnica di costruire non una lente, uno specchio con un unico disco di vetro ma con diciamo con tanti tasselli montati uno vicino all'altro. Questo è Guido Ordo Arturo la cui letteratura molto grande nella libreria dell'Osservatorio di Asiago c'è molta roba che non c'è neanche a Padova, ricordo in gioventù di avere divorato da studente nelle sere in cui non si poteva osservare perché era brutto tempo e lui è sostanzialmente un'altra persona sfuggita che nell'epoca delle leggi razziali ha dovuto eclissarsi, si rifugiò nella zona di Forlima che è il vero padre di telescopi come il Keck che è un telescopio con due specchi da 8 metri e mezzo, il James Webb Space Teles di cui sicuramente avete sentito parlare perché è stato lanciato a Natale e appunto l'ILT da 37 metri e con questo spero di essere state nei 20 minuti e ringrazio, ripeto è un piacere e un onore per me essere qua con voi. Grazie Roberto e a questo punto passiamo invece la parola a Donatella Calabi che è figlia di Daniele Calabi e che è una storica dell'architettura grazie ringrazio e vi assicuro che non è un ringraziamento di rito anche a nome di mia sorella che è qui in sala l'università di Padova prima di tutto la rettrice Mapelli il direttore dell'osservatorio il professor Seno il professor Peruzzi che si è dato tanto da fare nell'organizzazione di questa giornata, di questa cerimonia il sindaco di Asiago con vera e particolare con vera e particolare emozione la senatrice Liliana Segre anche il tecnico che ci assiste che là dietro a quel vetro è riuscito ad organizzare la registrazione on streaming di questa giornata e ovviamente tutti i presenti in sala nella locandina d'invito ma lo dicevo un momento fa anche il professor Peruzzi d'invito alla cerimonia di oggi accanto al mio nome voi vedete questa indicazione di storica dell'architettura definizione corretta perché è un mestiere che io ho praticato per molti anni ma se è molto difficile fare lo storico dell'architettura sull'opera del proprio papà la cosa è ancora più complicata quando quel padre architetto dell'edificio del quale si è chiamati a parlare è mancato molto giovane molto prima che avesse inizio la propria formazione di esperto della materia e con la conseguenza che la sua pratica professionale si sia di fatto della sua pratica professionale si sia di fatto condiviso abbastanza poco così come si sia condiviso abbastanza poco di una serie di questioni delle quali vorrei parlarvi oggi e allora nella giornata di oggi invece che svolgere il ruolo della storica dell'architettura vorrei essere piuttosto una storica la definizione forse più corretta è quella della storica tucur nel senso che con una spartizione di compiti concordata con lo speaker successivo il professor Stefano Zaggia che vi parlerà del progetto dell'osservatorio di Asiago io vorrei invece parlarvi dei circa quattro anni che hanno preceduto quel millequattrocento millenovecento novantadue scusate quarantadue millenovecento quarantadue che siamo oggi chiamati a celebrare episodi che sono ben documentati e mi piace qui ricordarlo nell'archivio dell'università di Padova e in alcuni fondi brasiliani e comincio allora con la prima settimana del febbraio del millenovecento trentotto nella quale Carlo Anti che era allora il rettore dell'università di Padova scrive due prime lettere di raccomandazione per segnalare il nominativo di mio papà a due architetti che in quel momento erano i maggiori architetti esistenti in Italia credo di poterlo dire senza tema di essere come dire che si possa contrastare questa affermazione si tratta di Arnaldo Foschini la lettera del 30 gennaio del 38 e di Marcello Piacentini che forse è un nome che è più conosciuto e vorrei ecco sì dopo me le faccio scorrere così d'accordo subito dopo scrive anche sempre Anti sempre il rettore dunque scrive anche al commissario generale dell'esposizione universale di Roma l'E42 il senatore Vittorio Cini e vicepresidente dello stesso EUR tutti conoscete l'EUR a Roma e Fisioppo inviando alcune fotografie delle opere costruite progettate da Daniele Calabi ne magnifica cito il grande valore tecnico e lo squisito gusto moderno per lui evidentemente Daniele Calabi era un giovane promettente era nato a Verona nel 1906 si era laureato a Padova come ricordava prima la rettrice nel 1928 aveva poi lavorato due anni a Parigi nell'ambito dell'HBM Habitation Bon Marché che erano degli esempi che i giovani architetti della mia generazione hanno studiato in modo particolare come esempio dell'applicazione sperimentazione della prefabbricazione si trattava di un quartiere il quartiere di Drancy Cité de la Mouette realizzato da due architetti molto famosi allora Lodz e Baudoin nello studio del quale mio papà ha lavorato per due anni un quartiere le vicende della storia le vicende della storia sono spesso molto curiose un quartiere è diventato tristemente famoso perché lì sono stati concentrati gli ebrei parigini prima di essere mandati nei campi di Birkenau e di Auschwitz nel 1934 Daniele Calabi passa l'esame di stato di architetto a Milano e nello stesso anno vince con il secondo premio il concorso per l'istituto di chimica farmaceutica dell'università di Padova e dopo questo episodio viene incaricato diventa funzionario dell'ufficio tecnico della stessa università Antti aveva dunque avuto modo di conoscere Calabi sia come assistente volontario di architettura nella scuola di ingegneria ma soprattutto come impiegato dell'ufficio tecnico in un momento tra l'altro in cui l'università di Padova stava modificandosi molto stava crescendo stava operando molto nel campo dell'edilizia ed è evidente che ne aveva una certa stima lo certifica anche una lettera precedente di due mesi a quelle che ho appena menzionato inviata a Gioponti Gioponti stava lavorando molto per l'università di Padova era un architetto molto famoso e Antti gli scrive era anche il direttore della rivista Domus Antti gli scrive suggerendogli di pubblicare nella rivista Domus la colonia marina degli alberoni che mio padre aveva progettato cosa che Gioponti fa nella risposta data al rettore Arnaldo Foschini che a Roma aveva sicuramente molto potere e che era stato dal 1929 al 32 il direttore della rivista Architettura organo del sindacato nazionale fascista degli architetti afferma di apprezzare le solide qualità dell'architetto Calabi ma sostanzialmente dichiara l'impossibilità che gli sia affidato un incarico all'euro analogamente negativa e qui la scusa è più come dire diplomatica essendo il personale al completo la risposta è negativa da parte del conte Vittorio Cini il rettore Antti al quale evidentemente il futuro del giovane architetto stava a cuore insiste vorrei ricordare alcune date credo che sia utile le leggi sulla razza non sono ancora state emesse in questi mesi di cui sto parlando i primi mesi del 1938 è ben noto che la prima lettura dell'editto di Mussolini dal balcone del municipio di Trieste a proposito delle scuole dell'espulsione degli ebrei dalle scuole del regno è del 5 settembre i provvedimenti per la razza per la razza italiana sono stati emessi il 17 novembre e quelli per la disciplina dell'esercizio delle professioni sono del giugno 39 nel giugno 39 mio papà viene espulso dall'ordine degli architetti di Padova quando ormai da un bel po' era partito per il Brasile tuttavia il clima generale per gli ebrei stava degenerando rapidamente e la solerzia con il quale il rettore dell'università di Padova invia a destra e a manca fuori dall'ambito padovano lettere per raccomandare il giovane Calabi sembra essere un sintomo del precipitare della situazione ma anche della consapevolezza di anti di questo precipitare della situazione come definire infatti l'atteggiamento di anti in questo periodo una generica preoccupazione per la carriera di un giovane che evidentemente ha avuto modo di apprezzare forse sì certo è che Carlo Anti che Norberto Bobbio ha definito un fascista tutto d'un pezzo e che si è poi dedicato diligentemente all'epurazione dei professori della sua università anche per la posizione occupata presumibilmente era consapevole delle decisioni che si stavano prendendo che stavano per essere prese dall'inizio dell'anno tant'è che di nuovo nel 2 marzo del 1938 prende carta e penna a favore di Calabi per scrivere e questa è una lettera abbastanza curiosa letta da noi oggi per scrivere ad Asmara al governatore dell'Eritrea dicendogli cito testualmente che il provato e capace direttore dei lavori di Lizzi dell'Università di Padova prezioso soprattutto come architetto e progettista andrebbe volentieri in Colonia e non è certo un caso se potesse contare su qualche incarico di governo non è certo un caso che il 19 marzo Daudiace questo è il nome del governatore dell'Eritrea gli risponda di non potere assolutamente dare assicurazioni circa il fatto che il governo possa affidare incarichi a Calabi per ragioni scusate era la precedente era questa per ragioni che comprenderete molto agevolmente senza che io entri in dettagli certo è che in pochi mesi per Daniele Calabi la decisione di partire diventa improrogabile l'8 settembre 1938 solo tre giorni dopo l'editto proclamato dal balcone triestino compila la famosa scheda richiesta gli dall'università dichiarando di appartenere alla razza ebraica da parte di padre e di madre ma di non essere iscritto alla comunità israelitica il 15 novembre due giorni prima dell'emissione dei provvedimenti per la razza dunque ricordando da un lato la sua opera di architetto italiano per le costruzioni universitarie e dall'altro gli attuali provvedimenti che gli vietano per essere appartenenti a famiglia di religione ebraica di continuare la propria vita chiede al rettore di rivolgersi alla questura per ottenere un rinnovo del passaporto con la vidimazione per l'america meridionale l'indomani il rettore invia la sua richiesta al questore di Padova ricordando che Calabi dovrà essere allontanato dall'ufficio tecnico perché ebreo e gli aggiunge essendo allora in costruzione ad opera di tecnici italiani la città universitaria di Rio de Janeiro ed essendoci analoghi lavori in corso a Buenos Aires è probabile che il giovane professionista possa continuare laggiù la sua attività al questore il rettore Anti rammenta la figura morale del suo raccomandato che è stato per vari anni l'ingegnere preferito dalla federazione dei fasci di Padova tanto da essere prescelto per la progettazione di alcune case del fascio e soprattutto per la costruzione della colonia marina degli Alberoni il 22 novembre ancora sempre Anti scrive un'altra lettera a un'autorità militare questa volta il tenente colonnello Haroldo Vinci Guerra nella quale afferma fra tre mesi dovrò licenziare Calabi dall'ufficio tecnico perché ebreo aggiunge lo stesso andrà in Argentina con l'appoggio di Gioponti che ha laggiù dei lavori cominciati e nella lettera chiede a questo Haroldo Vinci Guerra se lo possa segnalare a qualche amico presso l'ambasciata argentina o a qualche addetto militare ci saranno difficoltà di sbarco cosa occorre fare per ottenere il permesso il Calabi salvo la razza salvo la razza era comandabile sotto ogni punto di vista infine ancora una missiva successiva a una signora di cui non abbiamo trovato il nome che aveva conosciuto Anti al collegio romano quando era un giovane studioso di archeologia al collegio romano e che evidentemente si era nel frattempo trasferita in Brasile alla quale dice forse non avrà dimenticato l'archeologo Pivello alle prime armi in quelle stanzette odoranti di naftalina in questo caso Anti sottolinea in modo particolare il peso dei lavori fatti per le istituzioni pubbliche presenta mio padre a lei e al marito della stessa dicendo a parte la razza di nuovo insiste sullo stesso concetto è un giovane di grandi qualità che io rettore ho avuto per vari anni alle mie dipendenze per lavori molto importanti infatti ha costruito per la nostra università e per la federazione fascista vari edifici tutti molto apprezzati e con questa lettera siamo ormai al 4 gennaio del 1939 la decisione di emigrare era stata presa l'11 gennaio Calabria ottiene dall'università uno stato di servizio da portare con sé nel quale l'ingegnere capo e il rettore attestano che ha fatto parte dell'ufficio del consorzio edilizio universitario dal novembre del 34 al 10 gennaio del 1939 e che in quella veste si è occupato dei progetti esecutivi dei calcoli della direzione dei lavori degli istituti di fisica sperimentale di chimica farmaceutica e del palazzo centrale inoltre ha realizzato l'osservatorio astrofisico di asiago oltre che la sistemazione della clinica neurochirurgica il 13 gennaio da Genova al momento di imbarcarsi Daniele Calabi invia una lettera manoscritta all'ingegnere Giovanni Silva che è già stato nato che era allora il direttore dell'osservatorio nella quale ricorda alcuni impegni di cui aveva discusso solo il giorno prima di partire da quando stava per partire da Padova e che riguardava il pagamento di acconti e stati di avanzamento dovuti al signor Dalsasso che era il titolare della ditta esecutrice dei lavori esecutore soprattutto delle opere in pietra dell'osservatorio stesso che sono come ben sa quelli che hanno visto l'osservatorio sanno molto importanti nell'edificio stesso ricorda anche la collocazione dei disegni dell'arredo per lo stesso edificio che aveva lasciato nel cassetto di un mobile dell'ufficio che aveva dovuto lasciare ribadendo altresì di voler restare a disposizione per completare la definizione di quell'arredo che tra l'altro è tutto resistente si sarebbe dedicato a questo completamento se avesse ricevuto le piante dell'edificio all'indirizzo che avrebbe comunicato appena giunto a destinazione una laconica scritta in rosso aggiunta sul documento stesso e siglata forse dallo stesso Silva annota il 27 settembre del 39 che tale indirizzo non era mai pervenuto sbarcato a Santos il 27 gennaio del 39 Daniele Calabi giunge a San Paolo del Brasile un centro in piena trasformazione luogo di grandi opportunità per chi viene dall'Europa nel quale incontra un architetto ebreo italiano Rino Levi che era giunto a San Paolo negli anni 30 nel 1930 quindi molto prima che allora non era particolarmente conosciuto ma che oggi appare come il maggiore interprete e il promotore dell'architettura moderna nella stessa San Paolo oggi è molto studiato quest'ultimo lo aiuta molto all'inizio firmandogli i progetti alcuni dei progetti tanto che a lungo sono rimaste alcune zone di ombra nelle attribuzioni comunque ad attenderlo c'è il cugino Silvio Segre che vedete in questa fotografia che da alcuni anni ha intrapreso una piccola e ben avviata attività industriale nell'edilizia in particolare produce pignatte in laterizio per i solai di tipo misto quello che noi chiamiamo latero cemento un genere di costruzione che fino che in quel momento era totalmente sconosciuta in Brasile insieme i due decidono di dar vita a un'impresa comune nel campo delle costruzioni la costruttora moderna nella quale Calabi opera dal primo aprile del 1939 come strutturista come direttore dei lavori e come progettista ma senza mai avere la possibilità di firmare i suoi progetti e Segre riversa invece il sempre vantato almeno in famiglia spirito imprenditoriale qui comincia chiaramente un altro pezzo della vita di Daniele Calabi un pezzo sicuramente importante dal punto di vista della vita affettiva visto che nel 1900 no scusate ho sbagliato sì no perché l'hai toccato ah scusa no più avanti ancora ecco un aspetto importante dal punto di vista della vita affettiva visto che nel 1942 si è fidanzato e poi sposato con Ornella Foa e che poi sono nati i suoi tre figli io e i miei fratelli ma un pezzo nel quale ha incontrato sicuramente considerevoli difficoltà professionali perché per molti anni fino quasi alle soglie del ritorno in Italia nel 1949 non ha potuto firmare i suoi progetti come architetto non era abilitato alla professione non era riconosciuta alla sua laurea ottenuta in Italia in quella fase alcune lettere molto personali di mio nonno Carlo Foa che vedete in questa foto a mia mamma Ornella dimostrano l'impegno di tutta la famiglia per cercare di ottenere quell'agoniato permesso di lavoro che appunto non arriva eppure l'idea del rientro in Italia in qualche modo era già enunciata in quella lettera che era stata inviata da Genova nel momento stesso in cui stava per imbarcarsi nel 1991 quando stavamo preparando l'esposizione dell'opera di Daniele Calabi organizzata qui a Padova e il relativo catalogo pubblicato da Marsiglio nel 1992 l'amico di una vita l'ingegnere padovano Antonio Salce testimoniava l'indignazione che aveva sconvolto mio padre nel 1938 quando aveva appreso di dover partire Salce mi diceva di averlo visto per la prima e unica volta nella sua vita davvero alterato ricordandone ancora accenti e parole che non gli erano abituali questo diceva Salce e quel furore non doveva essere ancora sopito mentre il bisogno di risarcimento morale doveva essere un impulso fortissimo quando il 7 febbraio del 1945 scrive al console della Svizzera a San Paolo che curava gli interessi italiani chiedendo conto del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel febbraio del 1944 con il quale si stabiliva la riammissione in servizio di funzionari dispensati per ragioni razziali certo è che Calabi compie un primo viaggio esplorativo in Italia nell'autunno del 1947 e che l'11 novembre in una lettera a Giancarlo Palanti un altro architetto italiano che si era trasferito in Brasile nel 1946 gli racconta di essere venuto in Italia di aver conosciuto Albini Franco Albini celebre architetto per gli anni successivi che non solo lo aveva accolto cordialmente ma gli aveva anche presentato alcuni colleghi dice nella lettera conservata in Brasile nell'archivio della Università di Architettura ti riporterò l'impressione sulle idee che hanno gli architetti italiani e sulle condizioni in cui si trovano e poi dice di aver incontrato gli ingegneri della SNIA ai quali propone di lavorare insieme con lo stesso Palanti a cavallo fra Italia e Brasile cosa che invece non avverrà Daniele Calabi e la sua famiglia lasciano definitivamente il Brasile nel luglio del 1949 e dalla nave Paolo Toscanelli che è quella con la quale hanno attraversato l'oceano e gli scrive all'architetto Palanti con il quale nel frattempo aveva firmato e progettato la casa da infanzia di San Paolo scrive una lettera che in un certo senso è quasi la simmetrica di quella che aveva inviato da Genova da questo punto di vista la preoccupazione per una buona esecuzione dei lavori che lascia dietro di sé infatti chiede al collega di terminare il progetto redatto insieme e gli manda una serie di indicazioni tecniche molto precise per il completamento delle opere iniziate in edifici vari in particolare la carpenteria metallica la buona esecuzione delle porte gli impianti dell'acqua calda e fredda gli impianti della luce però facendogli capire che la decisione del ritorno in Italia ormai era irreversibile come giustamente notava Guido Zucconi nel catalogo dei lavori dell'architetto quello che citavo un momento fa della Marsiglio del 1992 il decennio trascorso San Paolo si presenta agli occhi di chi lo analizza a posteriori noi cioè come una fase in sé conclusa entro la quale sembra iscriversi un ciclo completo di opere una fase nella quale tuttavia gli anni della formazione in Italia hanno sicuramente giocato un peso importante e che d'altra parte lasceranno un'impronta evidente nel linguaggio e nel metodo compositivo degli anni del dopoguerra a Padova quando per lui comincia un'altra fase un'altra storia di queste diverse fasi di queste emozioni con noi figli mio padre non ha mai parlato e ancora una volta un documento scritto che mi ha aiutato a capire quanto forte doveva essere stata per lui la rottura vissuta nei dieci anni brasiliani e quanto intensa dovesse essere la nostalgia per il paese d'origine una lettera inviata a sua sorella Emma per convincerla a tornare da San Paolo in Italia in un momento per lei molto doloroso sono poche parole nelle quali mio papà le parla della bellezza dell'Italia quello che voglio dire con questi cenni è che anche per quegli ebrei che non hanno vissuto il dramma della deportazione dei campi di concentramento e che sono sopravvissuti agli anni più bui che cioè hanno avuto la fortuna o l'intelligenza di capire in tempo che era meglio andarsene e hanno avuto anche l'opportunità di accettare lo sconvolgimento della loro vita anche per loro l'esilio provocato dal fascismo non doveva essere stato facile una vita interrotta una vita fatta di abbandoni di distacchi da un contesto sociale dagli amici dai propri lavori una vita frammentata una vita vissuta per parti e vi ringrazio applausi grazie ora abbiamo l'altro intervento di Stefano Zaggia che appunto completa o continua quello appena presentato da Donatella Calabi buongiorno a tutti ringrazio ringrazio il direttore e Giulio che mi hanno coinvolti in questa iniziativa per me è un onore parlare ora in questa occasione per ricordare un'opera che ritengo una delle opere più importanti di architettura del novecento e soprattutto dopo le parole di Donatella da questo punto di vista inizierei subito ricordando citando uno studioso che aveva conosciuto Daniele Calabi Giuseppe Mazzariol uno storico dell'arte che aveva scritto che a proposito dell'opera di Daniele Calabi appare assai più complessa di quanto a prima vista la sua geometrica semplicità manifesta si mostra quindi è un'opera meditata che appare semplice nelle forme nelle scelte compositive ma che nasconde un pensiero profondo architettonico profondo non mi dilungo molto sulla biografia di Daniele Calabi che ha già sintetizzato Donatella ricordo solo appunto che si forma all'interno dell'Università di Padova nella nostra scuola di ingegneria siamo negli anni venti sono gli anni in cui la scuola di ingegneria e soprattutto l'istituto di architettura era legata all'insegnamento di Daniele Donghi figura importante che però apparteneva a una generazione precedente e quindi il carattere dell'architettura ancora insegnata era legata dal punto di vista degli stili allo storicismo quindi all'uso degli stili storici degli ordini però c'è un altro aspetto che caratterizzava questa scuola cioè l'attenzione molto forte e costante nei confronti delle innovazioni di tipo strutturale costruttivo nuovi materiali da costruzione nuovi sistemi costruttivi appunto Daniele si laurea nel ventotto poi appunto affronta la l'abilitazione professionale a Bologna ma soprattutto per avere un aggiornamento per quanto riguarda la progettazione architettonica in questo momento in quel momento era opportuno anche sperimentare altre strade e cioè quello di entrare in contatto con la cultura europea e quindi è importantissimo quel quel soggiorno di due anni circa a Parigi in Francia che mette in condizione Daniele di entrare in contatto a parte dal punto di vista professionale con un'importante una grande società di costruzione di costruzioni appunto che ha ricordato Donatella ma soprattutto con le opere che in quegli anni gli architetti del come si diceva una volta del movimento moderno cioè gli architetti che stavano rinnovando a livello europeo il linguaggio dell'architettura le Corpusier Robert Malestavan che in quegli anni operavano appunto in a livello europeo e in particolare in Francia questa è un'importante formazione un'importante contatto con la cultura europea che poi sarà la base per lo sviluppo di una propria una propria cultura architettonica cultura progettuale stiamo parlando lo dico anche ai nostri studenti di un giovane siamo si laurea nel 28 22 anni del 1906 quando ritorna in Italia e affronta diciamo la carriera professionale siamo attorno al 34 ecco è un giovane molto giovane e quindi affronta questa nuova avventura nel contesto padovano a Padova in quel momento c'era una forte come dire dal punto di vista dell'architettura c'era una un periodo di effervescenza di rinnovamento che era legato da alcune figure che in quegli anni lavoravano naturalmente per il regime ho in mente figure come Mansotti e Miozzo che cominciano a costruire le prime sedi della GIL casa del fascio impostate sulla linea proveniente dalla cultura europea dell'architettura e lo stesso anche Daniele inizia Daniele Carabbi inizia a operare in questi interventi che appunto ricordava prima anche nelle lettere mandate da Carlo Anti entra poi in contatto con Renato Fabbrichesi Renato Fabbrichesi era un docente di architettura tecnica all'interno della scuola di architettura di ingegneria dell'istituto di architettura genero di Daniele Donghi in qualche modo condivideva con Daniele Donghi l'impostazione concettuale e teorica ma era aperto alla novità accoglieva anche i giovani appunto come Daniele che diventa assistente volontario e con lui Renato Fabbrichesi Daniele Calabi e Carlo Griffei presentano questo progetto che è stato citato prima per uno dei nuovi istituti che in quegli anni erano in corso di realizzazione a seguito dell'approvazione del consorzio del quarto consorzio edilizio dell'Università di Padova il consorzio anti è stato già citato prima questa fase di investimento nel rinnovamento edilizio e di completamento della dotazione degli edifici per la ricerca e per la didattica che caratterizza il ciclo dal 33 alla fine della guerra il termine della seconda guerra mondiale 43-45 l'Università di Padova in questo contesto Daniele entra a far parte dell'ufficio tecnico quindi partecipa con dei ruoli che sono a volte di direzione del cantiere di intervento all'interno di queste operazioni che vengono condotte a partire spesso da concorsi a cui partecipano anche architetti di tutta Italia su questa all'interno di questa cornice di tipo di committenza il caso dell'osservatorio astronomico astrofisico di Asiago nasce da un affidamento diretto da parte dell'ufficio dell'ufficio tecnico meglio del rettore che in questo caso affida direttamente l'incarico a Daniele Calabi in quegli anni gli anni precedenti probabilmente sia il capo ufficio tecnico Gino Ciampi che il rettore Anti avevano avuto modo di apprezzare anche la capacità organizzativa non solo progettuale ma anche di gestire un cantiere da parte di Daniele e qui è il 35 che possiamo dire la data in cui la figura di Daniele Calabi emerge anche con pienamente autonoma anche dal punto di vista proprio non vorrei dire matura perché stiamo parlando sempre di un giovane che ha 29 anni nel 35 però è già pienamente la sua formazione è pienamente compiuta ed è in grado di gestire anche architetture complesse e due sono le opere che caratterizzano questo periodo da un lato il progetto dell'osservatorio dall'altro la colonia degli alberoni che è stata citata prima sono due progetti e cantieri che vanno parallelamente poi farò vedere un'immagine da questo punto di vista e quindi come dicevo viene affidato direttamente l'incarico per la costruzione dell'osservatorio e si arriva alla decisione di realizzare l'osservatorio scegliendo una località a seguito ad Asiago a seguito di una serie di sopralluoghi discussioni che coinvolgono da un lato il direttore dell'osservatorio Giovanni Silva e dall'altro lato il rettore qui non voglio entrare nel dettaglio anche dei rapporti che si instaurano in questo periodo perché dal 23 1923 l'osservatorio era diventato un istituto autonomo quindi si crea anche un rapporto che viene gestito tra le due figure il rettore da un lato e il direttore dell'osservatorio l'osservatorio viene realizzato perché doveva ospitare uno strumento un importantissimo telescopio di dimensioni appunto inusitate più grande d'Europa che stava doveva essere costruito presso le officine Galileo di Firenze ok e gli accordi prevedevano appunto che da un lato l'università costruiva la parte architettonica del che doveva ospitare lo strumento mentre l'osservatorio seguiva la realizzazione del telescopio viene quindi identificata una località ad Asiago località Pennar un'altitudine 1045 circa insomma non è proprio qualche piccole livelli insomma della questa collina da questa parte abbastanza di insomma di colline abbastanza dolci in cui dovevano essere realizzate due strutture questa è la richiesta progettuale la realizzazione di un edificio di osservazione viene chiamato così un blocco edilizio che doveva ospitare il grande strumento il telescopio il secondo un fabbricato con ufficio e abitazioni per gli astronomi e poi anche una casa del custode che si prevedeva di costruire in una seconda fase cioè si progettano già anche le fasi costruttive da questo punto di vista Daniel Calabria elabora due versioni del suo progetto che si differenziano soltanto per piccoli particolari che però poi vedremo la disposizione dei volumi fu quindi individuata sin dal primo elaborato un corpo a pianta circolare con la cupola per le osservazioni e un secondo blocco edilizio di forma semicircolare noi architetti parliamo di crescent a mezzaluna in posizione più bassa proprio osservando le curve di livello questo che voi vedete è il primo elaborato con l'indicazione della posizione da questo punto di vista il progetto parte a valle diciamo così anche se siamo in montagna di accordi che si erano sviluppati con Asiago il terreno era stato messo a disposizione dal comune che si fece carico anche del tracciamento della strada per raggiungere la località di allacciamenti elettrici della lette idrica ed elettrica e soprattutto anche la fornitura delle pietre da costruzione negli eramborati di prodotti da Calabi nel corso di questa progettazione particolare significato a mio avviso assumono per capire anche la sua concezione progettuale come dicevo prima i scatti fotografici che lui realizza a partire dai modelli fa una serie di disegni elabora una serie di piante diciamo così tipo questa ma prepara anche un intanto faccio scorrere il primo progetto che riguarda essenzialmente le tavole che sono rimaste l'edificio di osservazione questo appunto l'edificio in cui doveva essere ospitato il telescopio dicevo a fianco di queste tavole ormai già perfettamente definite per alcuni aspetti dicevo Daniele Calabi realizza anche dei modelli dei plastici e a mio avviso molto interessanti sono qui vi faccio vedere questo primo progetto con la sezione che prevede la sezione della cupola con un annesso per ospitare laboratori officine con un corpo di fabbrica rettangolare sporgente con questo tetto inclinato ecco i modelli vi dicevo appunto e qui la sperimentazione riguarda l'uso della fotografia per capire il rapporto tra questi oggetti architettonici un elemento circolare e una semiluna come dicevo prima un crescent e qui questo mi ha fatto pensare subito alla sua esperienza francese parigina queste sono le tavole che vennero le fotografie del modello pubblicate presso Daniel Domenico Picca all'interno di un testo che raccoglieva progetti della nuova architettura italiana per il Veneto questa era una delle poche opere che vennero inserite all'interno di questo di questo questa rivista di questo volume e vedete come queste riprese fotografiche una ve l'ho fatta vedere prima e queste due vedete come il progettista Daniele Calabi che anche usava la fotografia anche personalmente come sappiamo dalla quando è stato studiato l'archivio e questo è emerso chiaramente sta studiando appunto dal punto di vista progettuale compositivo questi elementi e mi ha subito come anticipavo prima mi ha fatto venire in mente il collegamento con le posizioni di Le Corbusier espresse dalle Corbusier in quegli anni a proposito della purezza delle forme in architettura la semplicità la razionalità e la funzionalità dell'architettura che è un elemento che sta alla base di questo progetto Le Corbusier scriveva i nostri occhi sono fatti per vedere le forme nella luce le ombre e la luce rivelano le forme i cubi i coni le sfere i cilindri o le piramidi sono le grandi forme primarie che la luce esalta l'immagine ci appare netta e tangibile senza amiguità io collego proprio questa sperimentazione a mio avviso proprio a questi a questo clima culturale dell'architettura che caratterizzava la cultura architettonica europea questo è un testo la citazione che vi ho letto viene da questo testo verso un'architettura delle Corbusier che viene pubblicato nel 23 e vedete qui questa rappresentazione tuttavia nella concretezza del contesto paesegistico in cui fu collocato il complesso dell'osservatorio non si pone come un semplice oggetto astratto algido come dire nella sua perfezione geometrica ma alla base c'è questo volontà di tradurre l'onestà strutturale nei dettagli materici della pietra abbiamo visto come la pietra era l'elemento costruttivo messo a disposizione la pietra del rivestimento che dichiara in modo chiaro evidente questa volontà di radicamento di stare in un luogo che è appunto la collina la località del Pennar appunto la pietra è la pietra di Asiago quindi è un legame molto stretto vorrei fare un'altra citazione proprio per spiegare anche come affronta la progettazione dell'osservatorio dell'edificio dell'osservatorio perché nella concezione della struttura di questo edificio doveva essere perfettamente realizzato anche per evitare problemi di carattere vibrazioni giri d'aria circolazioni d'aria correnti d'aria eccetera eccetera che avrebbero disturbato l'osservazione e quindi studia proprio una realizzazione dal punto di vista costruttivo abbiamo visto prima con la separazione del blocco in cui è poggiato lo strumento il telescopio rispetto ai muri che racchiudono poi lo spazio il secondo progetto quello approvato definitivamente dopo che aveva ottenuto anche la l'approvazione e con alcune indicazioni del genio civile è quello che noi vediamo oggi innanzitutto dall'edificio di osservazione circolare era sparita l'appendice rettangolare perché il genio dice la copertura piana è forse troppo lunga per questioni della neve eccetera è meglio sostituirla cambiarla allora si opta per la soluzione che vediamo qui cioè un piccolo corpo che si affianca all'edificio circolare poi vedete che la posizione del qual è la quello centrale ecco vedete che la posizione del crescent è leggermente disassata rispetto a quelle che vedevamo prima perché anche qui è l'esito poi di una ricognizione molto più precisa sul sito e quindi si seguono gli allineamenti delle curve di livello e si studia una soluzione più più adeguata dico solo citando la relazione tecnica del progetto che è molto asettica non dà spazio a descrizioni quelle che ho fatto io finora di carattere architettonico ma si risponde essenzialmente alle richieste specifiche per la realizzazione dell'opera la precisa disposizione delle varie opere le dimensioni di ciascuna struttura e del complesso di esse risultano delle funzioni che questo organismo deve compiere l'edificio stesso è uno strumento scientifico proprio realizzato per ospitare il telescopio quindi in particolare cura fu messa proprio sulla relativamente alla costruzione di quest'opera dicevo che le due le due opere che citavo prima la realizzazione della colonia degli alberoni vanno di pari passo sono contemporanee ho voluto mettere una lettera di risposta di Daniele Donghi a Carlo Anti durante nel corso del 37 in cui si stava iniziando i lavori si stava per partire con la costruzione dell'osservatorio i lavori vennero assegnati alla ditta dal sasso il 13 ottobre del 36 ma poi dopo c'era l'inverno quindi si ricomincia poi in primavera la costruzione e Calabi in quel momento era proprio sul cantiere degli alberoni molte lettere che sono conservate le ho ritrovate da poco risposte un carteggio tra Silva Anti e Calabi una risposta viene proprio dagli alberoni in cui dice non sono potuto arrivare perché c'era un getto complesso che mi ha un getto per la costruzione della della colonia che mi ha impedito di essere presente per discutere le ultime gli ultimi dettagli soprattutto per la costruzione e poi la progettazione finale dell'edificio fabbricato delle abitazioni ecco qui alcune tavole del progetto del secondo progetto quello esecutivo vedete che appunto è sparita quell'appendice rettangolare è diventata questa mezzaluna che si aggancia al corpo centrale che ha mantenuto le stesse dimensioni le stesse caratteristiche perché doveva poi ospitare non solo lo strumento ma anche la cupola che nel frattempo rotante mobile che era stata costruita sempre dalle officine Galileo di Firenze c'è una stretta connessione tra Calabi sempre l'ufficio tecnico il direttore dell'osservatorio e le officine Galileo vedete qui quel dettaglio costruttivo in cui le pareti esterne che rivestono che chiudono l'edificio sono nettamente staccate con questo masso fondale possiamo dire che era destinato a reggere il telescopio questo è un traliccio che viene realizzato sempre in acciaio sempre dalle officine Galileo e poi rivestito in cemento per proteggerlo e qui appunto è l'elemento su cui poi venne poggiato venne collocato la struttura del telescopio scusatemi qui vi faccio vedere velocemente le abbiamo già viste le fasi costruttive la grande cura come dicevo nella realizzazione ecco e siamo nel 37 qui un'immagine con la presenza appunto penso sia il direttore dell'osservatorio e Daniele Calabi sul cantiere nel momento in cui era stata collocata la struttura in metallo della della cupola aggiungo solo una breve perché prima abbiamo visto passare un'immagine il direttore ha mostrato un'immagine del cantiere di fisica dell'edificio di fisica lì c'era presente insieme a Bruno Rossi anche Daniele Calabi si riconosceva perché per un piccolo periodo aveva curato la posa il cantiere il direttore del cantiere per alcune opere interne dell'edificio mi sembra anche qui due giovani 1905 Bruno Rossi Daniele Calabi 1906 qui faccio vedere appunto alcune altre immagini del cantiere finisco velocemente con la mezzaluna che ospitava tutte le abitazioni lavoratori spazi di servizio all'osservatorio velocemente qualche altro dettaglio la sezione con la copertura anche qui ho voluto mettere anch'io la lettera che ha mostrato prima Donatella l'ultima lettera che Daniele Calabi scrive prima di partire 13 gennaio del 39 è una lettera che dimostra quello che mi aggiungo a quello che ha detto la Donatella la cura l'attenzione per un'opera architettonica da parte del suo progettista qui Daniele Calabi scusatemi appunto dice è in fase di completamento l'edificio con le abitazioni mancano gli arredi ma io sono posso continuare a contribuire alla realizzazione di quest'opera se mi mandate i disegni io anche da lontano continuo a preparare questa a fornire delle soluzioni per la costruzione e qui siamo appunto qualche giorno prima dell'imbarco la lettera è scritta da Genova appunto stava aspettando la nave per partire in quel momento e qui si interrompe la presenza di Daniele Calabi sul cantiere che verrà poi completato da altri dell'ufficio tecnico nei due anni nei tre anni successivi però anch'io voglio terminare ricordando un passaggio di una lettera che mi sembra importante detto tutto questo in questa drammatica brutale congiuntura Daniele Calabi è costretto a maturare una decisione perché scrive avanti e qui traspare io non l'ho conosciuto naturalmente Donatella perché però ho capito anche il carattere di tuo papà ecco quello che ci hai raccontato non che raccontava riservato e molto preciso nei suoi atteggiamenti però qui traspare perché scrive me ne devo andare perché qui non posso svolgere il mio lavoro ma non solo non posso anche condurre la mia vita questo è l'elemento secondo me decisivo grazie grazie stefano allora prima di passare all'ultimo intervento il professor Luigi secco che è stato professore all'istituto di astronomia dipartimento di astronomia porta una breve testimonianza prego chiedo scusa della mia intrusione io sono un vecchio professore ho gli anni dell'osservatorio non gli anni dell'università però ecco volevo portare una testimonianza flash sulla una delle conseguenze delle leggi razziali che ha fatto incontrare due giganti dal punto di vista spirituale primo Levi da una parte e il professor della porta dall'altra dalla porta come sapete con Rosino erano le due colonne del corso di laurea in astronomia inventato da Rosino però Rosino aveva scelto con sostegno per la didattica il teorico il professor della porta allora dalla porta si trovava inizialmente a Torino dove presideva i laboratori di fisica e fra questi c'era il laboratorio del terzo anno per i chimici come tutti probabilmente sanno Primo Levi era laureato in chimica non in fisica allora c'è una bellissima descrizione che fa Primo Levi nel libro il sistema periodico degli elementi sotto la voce potassio ed escrive il professor della porta è bellissima la sera in cui in bicicletta segue il professor della porta per giù di cosa per chiedergli se fosse stato disposto a laurearlo perché nessuno voleva laureare Primo Levi perché era ebreo della porta che già aveva notato durante il corso di laboratorio l'estrame intelligenza di Primo Levi gli ha detto seguimi cioè per dire con entusiasmo vieni e gli ha messo a disposizione tutte le strutture del dipartimento e anche il suo stesso ufficio ecco poi ci sono persi di vista Primo Levi è stato internauto da Auschwitz e dalla porta era convenuto che fosse morto e aveva pianto meramente per molti anni la morte di questo suo eccellente studente poi quando Primo Levi è tornato tra la porta è andato a trovarlo a casa sua e Primo Levi gli ha chiesto il senso di quello che gli era successo cioè come leggere il fatto che lui era stato un privilegiato rispetto a tanti altri colleghi che erano deceduti ed è un rapporto che in quel momento stava studiando stava leggendo Guilherme e Friedrich Schwan sulla unità trascendente delle grandi religioni gli ha risposto guarda leggilo con un segno di predilezione da parte di Dio perché tu possa testimoniare altre generazioni in future l'obrobio che hai visto perché non si ripesano più queste cose strazianti purtroppo invece ecco questo lo dico ai studenti stiamo assistendo tutti di nuovo a queste atrocità orrende però Primo Levi non aveva accettato questa proposta della porta nel senso che diceva lo sento come un privilegio e non voglio essere privilegiato rispetto a quelli che sono mancati e hanno continuato questo dialogo trovando elementi di sconforto di delusione addirittura diceva tutti probabilmente avete già sentito nel libro che lui ha scritto se questo è nuovo diceva Dio non può esistere se c'è stato Auschwitz ecco però da una volta insisteva con la sua posizione dicendo di guarda tu hai il dovere di testimoniare credo ecco qui oggi manca quella che è la testimonione vivente in questo momento storico la l'Iona Segre però credo che tutti i diciamo quelli che sono sopravvissuti abbiano trovato una grandissima difficoltà nella loro testimonianza perché anche i giovani pur più interessati e più sensibili fanno fatica a capire e a desimarsi in quello che loro hanno vissuto e questo può portare poi la persona a un senso di depressione e di angoscia anche comunque ho continuato questo bellissimo dialogo e dalla porta mi dà testimonianza in uno scritto la mia amicizia con Primo Levi che ho ricevuto dal figlio della porta e l'ha letta durante il convegno a Parigi nel 2000 che è stato redatto poi dalla Miriam Anonismos ecco volevi vedere solo questo se da una parte c'è stata la straziante testimonianza della figlia dell'architetto dall'altra c'è stata anche questa controparte se vogliamo che non justifica assolutamente le leggi assiagurate diciamo naziali però è una testimonianza visto che dalla porta è stato un docente nel corso di laurea io sono stato un suorieno e ho lavorato non sono lavorato laureato con lui e ho lavorato poi tutta la vita con lui ecco volevo soltarvi questo flesso grazie grazie a Luigi Secco e ora allora la parola a Davide Romanini Accur che è assessore dell'unione delle comunità ebraiche italiane ucei buongiorno a tutti signora rettrice signor sindaco donatella francesca professori signore signori come assessore sono sono qui a rappresentare l'unione delle comunità ebraiche e a ringraziare dell'invito a portare un contributo nella ricorrenza della costruzione di questa importante struttura in cui si vuole onorare e recuperare l'opera professionale dell'ingegner Daniele Calabi la cosa mi tocca abbastanza da vicino più della normale rappresentatività perché ho conosciuto Daniele Calabi e in qualche modo molto 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 più modesto ho avuto anche un percorso professionale abbastanza analogo prima con la laurea all'università di Padova poi con la frequenza all'IUAV di Venezia e poi occupandomi per 42 anni di professione anche di attività universitarie però appunto qui non sono a parlare dell'opera professionale di Daniele Calabi resta però il mio ricordo di questa persona magro abbastanza piccolo con degli occhi dolcissimi e molto molto riservato che era anche marito di un'amica di mia madre che era il padre di un compagno di scuola di mio padre di mio fratello scusatemi ma soprattutto che fin da allora mi aveva affascinato in una maniera incredibile con la sua casa delle meraviglie perché in via Ricorno a Padova c'era questa bellissima casa con grandissime vetrate che facevano compenetrare il verde della natura dentro ai materiali edilizi e dove c'era una scala che era fatta solo di mezzi gradini per guadagnare spazio e che destava tutto il mio stupore e il mio interesse certamente la ragione per cui avete invitato l'Ucei è indirizzata ad un ragionamento non forse specifico sulle leggi razziali o razziste come oggi si tende a identificarle ma su quanto sia avvenuto tra 84 e 77 anni fa quando improvvisamente sono state cancellate delle persone sono state inibite di punto in bianco dei cittadini a condurre la propria vita normale si è impedito a dei lavoratori di esprimersi nelle specifiche capacità e si sono eretti degli invaricabili muri di distinzione e discriminazione malgrado molto sia stato detto e scritto su questi temi quello resterà sempre come per la verità ha ricordato la rettrice un punto dolente della storia italiana in quanto anche a differenza della Germania stessa il nostro paese non ha mai voluto o saputo fare un'assunzione di responsabilità trincerandosi dietro quella comoda asserzione degli italiani brava gente accettando la scusa della sottomissione ad altrui richieste dimenticando il consenso di una parte preponderante della nazione omettendo analisi storiche e giuridiche riciclando personaggi allora compromessi non curandosi di restituire i sopravvissuti quanto era stato loro tolto con violenza materiale o giuridica si parla spesso di memoria il Parlamento ne ha fatto anche una legge ma esistono problemi di interpretazione e di utilizzo di questo termine si cerca di insegnarla ai giovani ma non si comprende il dovere di non seppellirne il monito ha anche a che fare con la coscienza individuale e può non conciliarsi con ciò che le singole persone vogliono credere molta gente non lo sa poche persone vogliono sapere molti sono convinti che non sia utile perché oggi ha necessità un click sul computer fornisce ogni nozione e non importa se sia quella sbagliata molta gente rifiuta in maniera solare dice non mi interessa o in maniera rabbiosa mi è capitato più volte dice non ne voglio nemmeno sentire parlare però quelle stesse persone sono terreno fertile di conquista per quanti abbiano dei precisi obiettivi invece oppure null'altro da fare pronte ad accettare qualunque stereotipo riveicolato qualunque notizia falsa ma accattivante qualunque appiglio confortante la propria solitudine mentale e qualunque bandiera che venga sventolata o subdolamente dimostrata sono cambiati anche i parametri culturali forse i metodi di insegnamento sicuramente quelli dell'apprendimento non dobbiamo seguire la conoscenza come nozione dobbiamo contrastare l'ignoranza laddove sembra essere il confortante sonno della società attuale dobbiamo intervenire su persone i giovani in particolare disperatamente aggrappati ai propri telefonini neanche fosse il seno materno con le case con i televisori accesi utilizzati per annullare ogni eventuale comunicazione generata dalla capacità del proprio pensiero che si incontrano nei caffè o negli spritz sempre affollatissimi solo per ripetersi l'un l'altro sempre le stesse cose e che si comportano e si vestono in funzione di essere assolutamente uguali o perlomeno analoghi gli uni agli altri salvo poi tatuarsi per trovare una individualità soltanto estetica è faticoso vivere correttamente informati anche nell'attualità vediamo quanto possa giocare la disinformazione quanto venga esplicitamente utilizzata per negare anche le più evidenti realtà e sapete a cosa mi sto riferendo la Shoah è un complesso di fatti storici e sociali che ha massimamente riguardato l'ebraismo ma non solo e dal quale l'ebraismo è rimasto enormemente amputato ma non deve essere percepita come confinata nella storia ebraica e nella molteplicità degli eventi che nell'arco dei secoli si sono configurati come avversione al popolo ebraico la Shoah riguarda l'intera umanità essa si differenzia dal terribile elenco dei genocidi che non sono pochi non solo per l'elevata quantità numerica e proporzionale dell'esito ma perché per la prima volta non nasceva da sentimenti di avversione di tipo tribale o tristemente politica ma è stata impostata su base scientifica originata da precise discriminazioni razzistiche è stata messa in pratica con strumenti e logistica esplicitamente industriali è stata eseguita non solo da militari o forze combattenti ma anche da fiancheggiatori civili e persone perfettamente consce della missione che era stata loro affidata infine ha potuto avere corso per l'insensibilità della coscienza collettiva dobbiamo tutti smettere di imputare gli avvenimenti di allora di nuovo terribilmente assonanti con quelli di questi giorni sotto l'ombrello allocutivo di follia è un comodo rifugio della mente relegare alla follia tutto ciò che risulta dissonante dal comportamento più standardizzato o dal giudizio etico comune ma se il comportamento è collettivo esso ne è l'esatta contraddizione ed è in contrasto con la capacità della ragione umana la capacità selettiva della ragione umana anche nel nostro paese quindi purtroppo l'ascesa della dittatura le opzioni belliche le leggi razziali furono eventi largamente condivisi e non estranei alla comunità sociale in cui avvenivano le scelte non furono folli ma perfettamente razionali gli ordini nella catena dei subalterni le libertà di iniziativa negli ambiti di autonomia le comunicazioni verso terzi e le sollecitazioni del consenso delle piazze furono per lo più assolutamente inchiaro ottenendo entusiastica adesione è quindi opportuno sfatare il mito dell'obbligo dell'obbedienza così come quello dell'ignoranza di ciò che stava accadendo non è dunque prioritario inseguire la memoria nostro compito è creare la consapevolezza e quella coscienza che di nuovo ora lo ripeto ancora traballa di fronte alle prepotenze alla paura di schierarsi al timore di scoprire di essere coinvolti così anche la nostra amatissima università di cui stiamo infinitamente fieri a 800 anni dalla sua fondazione quella che nasceva dall'universa universis patavina libertas quella che nei primi secoli era l'unica università ad accettare gli studenti ebrei anche i protestanti per la verità voi sapete che la laurea era consegnata dal vescovo previa professione di fede quindi questa era la ragione per cui non avrebbero potuto non ricevere una laurea gli studenti protestanti o ebrei ma a Padova invece era possibile quella che quindi fece sì che venissero a Padova con percorsi magari della durata di parecchi mesi studiosi provenienti dalla Polonia o dai lembi estremi della Lituania che divennero cittadini padovani tanto che da Padova venivano emessi responsa che avevano valenza per tutto l'ebraismo diasporico anche l'università di Padova si è piegata all'antisemitismo più bieco espellendo e cancellando i suoi figli perdendo grandi personalità da Donato Donati a Cesare Musatti da Alberto Golbach a Tullio Levi Civita da Bruno Rossi a Daniele Calabi 5 su 67 professori di ruolo 2 su 9 professori emeriti 6 su 84 incaricati 14 su 170 assistenti 21 su 198 liberi professionisti il 9% dell'intero corpo accademico del momento e tutto avvenne nel silenzio generale oggi abbiamo sentito che questo rettore che invece è passato alla storia per essere particolarmente antisemita invece si è curato di portare avanti questo questo giovane che evidentemente gli piaceva allora però di fatto si è verificata l'espulsione e contemporaneamente l'accaparramento di quei posti improvvisamente disponibili per un'accelerazione della propria carriera da parte di chi aveva trovato il posto superiore libero Calabi fu uno dei pochissimi che avevano l'occasione di una seconda chance di ricomporre una seconda vita nella sua città altri emigrarono per sempre impoverendo l'università la città la società o finirono le loro esistenze nei camini di Birkenau ma torno a dire se di tutto ciò noi facciamo soltanto un uso mnemonico un esercizio mnemonico seppur con volonterosa dedizione facciamo restituzioni o celebrazioni come quella odierna senza avere la piena consapevolezza del monito riveniente dal passato diventa uno sforzo assolutamente inutile perché prima o poi l'uomo dimenticherà di nuovo e ripeterà inevitabilmente i propri peggiori errori ed anche quegli avvenimenti che proprio in questi giorni ci inchiodono alla televisione con emozione ed angoscia perché ci evidenziano le stesse cose del passato indipendentemente dal fatto che si sviluppino da ovest da est verso ovest e non da ovest verso est domani sparita l'emozione e soppita l'angoscia perché sostituiti da altri eventi che creano una nuova emozione saranno dimenticati e di nuovo qualcuno si ivilerà basta parlare di Ucraina non ne voglio più sentire parlare però non voglio chiudere con tristezza un paio di giorni fa guardavo da una terrazza del prato della valle l'emergere della specola nel crepuscolo e stavo pensando proprio a cosa dirvi in questa occasione lì Galileo cominciò a scandagliare il cielo poco più di tre secoli dopo venne costruito questo osservatorio e l'artefice fu a Daniele Calabi Bereshit Barah Elohim et Hashamaim Veeta Arez è il primo verso della Genesi in principio Dio creò il cielo e la terra la terra era in forma e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio alleggiava sulle acque Dio disse sia la luce e luce fu Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre Dio chiamò luce il giorno mentre chiamò le tenebre notte e fu sera e fu mattina del primo giorno Dio disse sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque Dio fece il firmamento separò le acque che sono di sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento e così avvenne Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina il secondo giorno i saggi della Torah calcolavano il numero delle stelle in termini di 10 elevato alla diciottesima potenza nel 1997 gli scienziati della NASA le calcolavano in 10 elevato alla ventunesima potenza proporzionalmente è ben poco di più grazie ringrazio Davide Romanini a cur come capite di una giornata di questo genere c'era nella scaletta conclusioni non c'è da concludere mi pare spero che sia stato un incontro utile vi dico solamente due cose la è stata citata varie volte la scopertura della lapide che ora verrà fatta su all'osservatorio purtroppo non è aperta a tutti per cui è per invito perché non c'è ci sono dei vincoli sullo spazio però dalle due e mezzo di questo pomeriggio chiunque può venire a visitare l'osservatorio se ha interesse perché l'osservatorio sarà aperto al pubblico grazie ancora e speriamo di vedervi all'osservatorio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti